Termoplast, energie in movimento. Da 40 anni Termoplast opera nel settore dell'imballaggio flessibile proponendo soluzioni di alta qualità per il settore industriale. Negli ultimi anni Termoplast ha diversificato la produzione rivolgendosi a nuovi mercati, quello alimentare e medicale, con investimenti verso nuove tecnologie. Una strategia aziendale sempre rivolta al futuro con un aggiornamento tecnologico continuo che ha permesso a Termoplast di realizzare prodotti innovativi, ecologici e sempre propositivi verso un mercato in costante evoluzione. Termoplast